Buongiorno e buon lunedì. Continuiamo la nostra mattinata e l'ampia pagina dedicata all'informazione con il nostro consueto appuntamento della mattina. Il Caffè Con oggi ci ha raggiunti il segretario generale della CISL Marche, il dottor Marco Ferracuti, a cui diamo il buongiorno. Benvenuto, dottor Ferracuti. Grazie. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie per l'invito. È un piacere essere con voi. È un piacere, è tutto nostro. Dottor Ferracuti, il 2024 è iniziato con delle novità, intanto con la sua elezione lo scorso 10 gennaio. Un cambio di passo, quello che promette la sua gestione, soprattutto un dialogo costante con gli altri enti. A cominciare dalla Regione, il primo scottante capitolo è quello della sanità. Sì, noi vogliamo andare avanti in continuità con il passato. Il dialogo, il confronto, il cercare di trovare delle mediazioni, degli accordi è nel nostro DNA. Vogliamo continuare a farlo, a cercare qualunque pertugio possibile per riannodare i fili del dialogo dove si sono interrotti. Giustamente, iniziando proprio dal tema più importante per tutti, che è la sanità, che quando parliamo di sanità significa parlare di salute, la salute dei marchigiani, che è particolarmente importante per ognuno di noi. È proprio su questo aspetto, su questo tema, che vorremmo aprire un vero confronto con la Regione insieme alle altre organizzazioni sindacali. La sanità regionale sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti, a cominciare dalla nuova legge che determina il neoassetto sociosanitario, ma poi anche le novità che sono arrivate e annunciate a inizio anno su più investimenti riguardo l'edilizia sanitaria. Mi farebbe piacere condividere con lei la lettura di questo articolo, che peraltro la riguarda, in cui lei dice bene, il mattone, che però non cura, servono personale ed attrezzature, anche per contrastare le lungaggini delle liste d'attesa e soprattutto per garantire quel sistema sanitario pubblico di cui l'Italia può vantarsi agli occhi del mondo, no? Sì, noi siamo convinti, e ci sembra anche quasi una banalità, che però per molti non lo è, che sì sono importanti le strutture, gli ospedali, ma poi chi si prende cura delle persone banalmente sono i medici, sono gli infermieri, sono il personale sociosanitario e le attrezzature per poterci curare. Ora ci sembra che in questa fase ci sia più attenzione al mattone, appunto a creare strutture nuove, trascurando gli altri aspetti. Oltretutto mi permetto di segnalare che in attesa di possibili e lontani progetti di realizzazione di nuovi ospedali, occorre, anche quando parliamo di mattone e di struttura, pensare di preservare e investire su quelli esistenti, se no in questa fase di transizione, che sarà necessariamente lunga, perché prima di avere nuovi ospedali dovremmo attendere decenni, il rischio che nell'attesa di qualcosa che forse avverrà, le strutture che oggi abbiamo in essere diventino fatecenti e poco dignitose per accogliere le persone che invece sono malate e hanno bisogno oggettivamente di essere in strutture che siano in grado di accogliere persone malate. Quindi investiamo anche nelle strutture esistenti, investiamo in personale, investire nel personale significa da un lato ed è necessario assumere più infermieri. Secondo i nostri calcoli, anche prudenziali, noi abbiamo rispetto alle strutture esistenti, che ricordo sono 13 ospedali più le due aziende più i tre ospedali disagiati, insomma rispetto a gli ospedali che sono in aree disagiate, cioè Pergola, Mandola e Cingoli, oltre ai 13 ospedali canonici. Insomma rispetto a queste strutture che hanno circa 11.000 posti letto, 5.000 addetti, secondo i nostri calcoli mancano almeno 2.000 infermieri. Questo è il primo dato, il secondo che c'è troppo precariato, quindi contestualmente alle nuove assunzioni occorre procedere velocemente alla stabilizzazione degli infermieri e delle infermiere. La precarietà è qualcosa che non va bene per nessuno, per nessun lavoratore e per nessuna lavoratrice, ancora meno per quelle persone che si prendono cura degli altri. Ecco, noi pensiamo che iniziando proprio da lì, da chi lavora in ospedale nelle corsie, dobbiamo dare stabilità e certezza, metterli nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile. Per questo noi chiediamo alla Giunta di farsi carico, di iniziare un processo veloce di stabilizzazione di questi circa 1.000 infermiere e infermiere che oggi vivono da anni uno stato di precarietà. E se mi consente non fa bene neppure alla nostra economia, dal momento che le famiglie che contano precari abbassano la capacità di spesa, i consumi e quindi ciò si aggiunge anche al drammatico scatto dell'inflazione che soltanto nel Maceratese ha portato a una diminuzione significativa del potere d'acquisto. Ma su questo ci arriveremo tra poco. Vorrei chiudere il capitolo sulla sanità mostrandole questo articolo oggi sulle pagine del Quotidiano Nazionale, che parla di una sanità a due velocità della cosiddetta mobilità passiva verso gli ospedali del nord per accedere a cure migliori, cure più rapide e in tutto ciò l'autonomia spacca ancora di più l'Italia, aumentando il divario dei servizi tra nord e sud. Noi che siamo al centro? Ecco, noi siamo al centro, ma in questo caso diciamo siamo in una via di mezzo, siamo in una situazione di mediocrità. A me piace pensare, a noi piace pensare che invece le marche hanno tutte le caratteristiche per essere all'apice delle classifiche. Dove si sta meglio? Noi dobbiamo fare in modo che nei prossimi anni in quelle classifiche noi possiamo essere ai primi posti, ci sono le condizioni per esserci. Attualmente noi siamo in quella parte di classifica perché la mobilità passiva che nel 2022 è cresciuta rispetto al 2021, siamo in attesa dei dati del 2023, ma dovremmo attendere ancora un paio di mesi, però nel 2022 è cresciuta la mobilità passiva rispetto alle promesse e le aspettative dell'assessore che doveva diminuire per un valore, la mobilità passiva ha un valore economico, come diceva anche lei, perché poi quando i marchigiani si vanno a curare fuori regione, la regione paga. Ulteriormente, oltre al finanziamento della sanità marchigiana, ecco questo valore è di circa 110 milioni, un valore importante, dobbiamo assolutamente lavorare per ridurlo. Vedevo gli ultimi dati, fatto 100 i marchigiani che vanno a curarsi fuori regione, il 50% vanno in Emilia Romagna, il 20% vanno in Lombardia, quindi facciamo anche parecchi chilometri pur di trovare una realtà che sia in grado di curarci e questo è un elemento che ci deve far riflettere, noi siamo disposti a fare centinaia e centinaia di chilometri per raggiungere un ospedale che noi riteniamo soddisfacente rispetto ai nostri bisogni, allora forse, e noi ne siamo convinti, bisognerebbe razionalizzare la nostra sanità marchigiana, perché gli ospedali che prima elencavo sono pochi o sono tanti? Probabilmente sono troppi rispetto al milione e mezzo di abitanti che siamo, ma non lo diciamo soltanto noi, ma anche i parametri nazionali porterebbe a dire che noi dovremmo avere 9, massimo 10 ospedali, se ne avessimo di meno e distribuiti bene a livello marchigiano, significherebbe avere la possibilità di creare delle eccellenze, quelle che noi cerchiamo quando abbiamo veramente bisogno di una cura, che eviterebbe, perché è l'unico sistema, di andare oltre regione per trovare appunto delle cure adeguate, quindi investire, razionalizzare, efficientare per avere delle eccellenze e per ridurre i tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche, anche su questo tema siamo in regione in linea con la media nazionale quando ci rivolgiamo per un esame salvavita, ed è fondamentale questo aspetto, ma poi scendiamo gli ultimi posti delle classifiche quando dobbiamo fare dei controlli più rutinari o di prevenzione, la prevenzione diciamo sempre che è fondamentale appunto per prevenire, l'acuirsi di una problematica di salute, salvo poi verificare che quando dobbiamo fare un esame diagnostico dobbiamo aspettare mesi e mesi prima di farlo, oppure ci dobbiamo rivolgere al privato con dei costi poco sostenibili soprattutto per le fasce medio-basse dal punto di vista reddituale della nostra regione che sono purtroppo troppe e in aumento di anno in anno. E allora in qualche modo abbiamo anticipato il prossimo tema parlando di precarietà, apriamo ora una finestra sul capitolo occupazione perché i dati, l'ultimo studio eseguito, l'ultimo rapporto eseguito ci indicano una crescita dell'occupazione, anche in questo caso però si tratta di un'occupazione sempre più precaria soprattutto per giovani e donne. Esattamente ha preso il punto in pieno, allora partiamo dal dato positivo perché i dati positivi vanno comunque accolti e noi li accogliamo con entusiasmo. Nel 2022 e nel 2023 l'occupazione è salita, il tasso di disoccupazione si è abbassato e questo è un elemento positivo che va preservato e va alimentato e va cristallizzato, insomma dobbiamo evitare che sia un rimbalzo, questo è il primo aspetto. Poi come lei acutamente osservava, il dato poi bisogna osservarlo bene da vicino e fatto 100 le persone, i lavoratori e le lavoratrici che sono stati assunti, soltanto il 12% a tempo indeterminato, il 32-33% a tempo determinato, il 30% tra contratti intermittenti in somministrazione. Sono persone, queste di cui stiamo parlando, che magari lavorano, hanno più contratti in un anno, la somma dei contratti li fa lavorare 6 mesi, il reddito annuale è bassissimo, ma per la statistica contano 6 contratti di lavoro, ma in realtà è una persona che ha lavorato con un reddito bassissimo e questo è l'elemento critico che noi dobbiamo osservare, evitare che si espanda e ridurlo, perché oggettivamente rispetto alla crescita dell'occupazione stiamo osservando un altro fenomeno che non eravamo abituati a fronteggiare nella nostra regione che è l'aumento della povertà, sia assoluta che relativa, ma all'interno di questo fenomeno in crescita della povertà e della sua interezza il 50% circa delle famiglie povere hanno il capofamiglia che lavora, quindi il nuovo fenomeno della povertà pur lavorando e questo è oggettivamente inaccettabile anche nei nostri canoni, perché avviene? Avviene anche per il fenomeno che provavo velocemente a descrivere qualche secondo fa, perché se si lavora in maniera discontinua, anche se la paga oraria è quella prevista dal contratto, ma il reddito bisogna farlo annuale e le ore lavorate sono poche in un anno, statisticamente ripeto la persona ha lavorato e forse conta anche per più lavori, ma in realtà il reddito è inferiore alla soglia di povertà. Questo è il vero elemento, è l'aspetto critico che noi vogliamo far emergere non soltanto per drammatizzare, perché comunque è un dramma, ma per trovare soluzioni insieme per poter superare questa condizione e qualche idea noi su questo ce l'abbiamo. Dottor Ferracuti, mi lancia un assist per chiederle una domanda la cui risposta è abbastanza intuitiva. Salario minimo sì o no? Salario minimo sicuramente sì, noi un sindacalista per natura lavora per alzare il salario minimo, il salario massimo, ma i diritti minimi dei lavoratori diciamo no al salario minimo per legge, cioè individuare per legge una cifra sotto la quale non si deve andare, perché non si capirebbe il perché quella cifra lì e non un'altra, ma un passo indietro se abbiamo qualche secondo, stavamo parlando di lavoro povero, esiste il lavoro povero? Sì, sono tanti i lavoratori e i lavoratrici che sono in quella condizione, per fortuna no in termini percentuali, sono il 3%, ma sono comunque persone e famiglie. Allora la prima questione è chi sono? Perché si trovano in quelle condizioni? Se la condizione è quella che dicevo prima, per esempio, non è con il salario minimo che si risolve il problema, se le persone lavorano in maniera discontinua, magari la pago oraria era anche superiore ai 10-12 euro, ma il problema è che si lavora 4 mesi l'anno. Se un altro problema è quello che non viene rispettato il contratto, perché si lavora nell'illegalità, rimarremo comunque nell'illegalità, allora il nostro messaggio è che situazioni complesse per definizione non possono essere risolte con una bacchetta magica, con soluzioni semplici, altrimenti l'avremmo già fatto. Oggettivamente ci sono forze sociali e politiche che cambiano idea velocemente nel tempo a secondo di situazioni diverse da quelle che è l'osservazione del mondo del lavoro. Noi continuiamo ad essere la stessa opinione da anni nel dire che il lavoro povero c'è, bisogna trovare soluzioni specifiche, come abbiamo fatto con i rider, facciamo un esempio, qualche anno fa abbiamo enucleato quel tipo di situazione e lì si è trovata la soluzione, come? Applicando un contratto nazionale di lavoro analogo a quei lavoratori e il problema lì si è risolto, allora occorre andare in maniera scientifica a capire perché lo sappiamo. Sicuramente chirurgica, per esempio chi ha pensato alla proposta di legge del salario minimo si esclude, perché salario minimo per legge, un salario dignitoso, bene, si esclude da quella platea le colfele badanti, allora non si capisce come mai quel tipo di lavoratrici, perché prevalentemente sono donne non dovrebbero avere la dignità di un salario di quel tipo. Perché quello mi sembra di aver capito ricade nella cosiddetta contrattazione privata, no? Nel senso che io posso anche accontentarmi di meno volendo lavorare, forse questo è il bonus. Io credo di no, io credo perché lì c'è un contratto nazionale, il tema è che i datori di lavoro siamo noi, siamo le famiglie e ci rendiamo conto che se oggi il costo di una badante è di 1700 Euro, aumentando il costo orario, come previsto dalla norma, si arriverebbe a circa 2500 Euro al mese, che sarebbe insostenibile per le famiglie. Quindi ci si rende conto che in quella situazione, forse non è l'unica, soltanto che lì ci siamo noi come famiglie e quindi è più intuitivo, che probabilmente non riuscendo a sostenere quella cifra si rischierebbe di scivolare sul nero. Ed è così, perché conosciamo il nostro paese, perché non ci sarebbe la possibilità di sostenere quel costo. Allora che cosa voglio dire? Che come quella legge ha escluso quelle situazioni, perché sarebbe controproducente, allora varrebbe anche per realtà simili, dove il mercato non consentirebbe una retribuzione maggiore. Ma allora noi non diciamo che quelle persone debbano guadagnare di meno, il problema è che non possono essere costi supportati dalle famiglie, occorre che lo Stato intervenga. Allora non bisogna essere ipocriti, dobbiamo capire che se quelle lavoratrici che si prendono cura di noi, dei nostri familiari, debbono avere una retribuzione maggiore e non può essere a carico delle famiglie, occorre che intervenga lo Stato, per esempio in questa situazione specifica, perché fanno un lavoro di cura. E questo per dire come è complesso il mercato del lavoro e non è possibile fare un intervento così a pioggia su tutti, occorre intervenire pezzetto per pezzetto, perché il rischio che al di là delle buone intenzioni, che poi si possono, abbiamo milioni di casi di questo tipo, il legislatore aveva buone intenzioni, però per essere frettoloso e non attento e un intervento chirurgico che teneva in considerazione anche le competenze degli altri soggetti, le buone intenzioni si sono trasformate in effetti che erano peggiori di quelli iniziali. Ecco, noi vogliamo evitare che questo avvenga, per quello chiediamo anche su questo tema un tavolo specifico che vada a vedere situazione per situazione e intervento specifico per ogni situazione. Segretario, mi sarebbe piaciuto molto parlare con lei anche del capitolo sicurezza sul lavoro, visto che l'anno non è iniziato proprio nel migliore dei modi a guardare gli ultimi casi di cronaca, purtroppo soltanto nella settimana che si è appena conclusa due morti riconducibili al lavoro. Purtroppo però il tempo è tiranno, soprattutto in televisione e quindi le chiedo, insomma, se vorrà magari riservarci un nuovo appuntamento, una nuova data per approfondire ulteriormente questo importante tema. Mi farebbe veramente piacere, sono a piena disponibilità, quando lei vuole sono qua in studio con molto piacere, grazie. La ringraziamo intanto per la disponibilità, grazie al segretario regionale della CISL, Marco Ferracuti, le auguriamo buon lavoro. Grazie, grazie a lei, buon lavoro e grazie ancora per l'invito. Buona giornata. Buona giornata, buona giornata. Voi invece restate con noi perché tra poco partiremo con una nuova puntata di Vera Mattina, avremo anche oggi tanta cronaca, tante storie, ci emozioneremo insieme. Restate con noi, a tra poco. Grazie a tutti.